Miriam devi riattivare l'audio sentite? ciao Miriam ciao a tutti ciao ok ma io cosa sto facendo? aspetta un attimo perché ho fatto un po' di confusione ah perfetto allora direi di cominciare poi magari arriveranno gli altri nel frattempo allora buonasera a tutti siamo qui per commentare a vario titolo i risultati della prima giornata di elezione del Presidente della Repubblica e io come al solito presento il nostro gruppo Pensare Insieme che è un insieme appunto di persone straordinarie secondo me che da un po' di tempo si riuniscono per studiare insieme e quindi poi per analizzare diciamo tematiche che ci stanno molto a cuore ci chiamiamo Pensare Insieme proprio dal pensiero filosofico di Anna Arendt e quindi stasera pensavo di citarla di partire con una sua citazione che forse è abbastanza calzante col tema della serata allora in verità e politica lei scrive nessuno ha mai dubitato del fatto che verità e politica siano in rapporti piuttosto cattivi l'una con l'altra e nessuno che io sappia ha mai annoverato la sincerità tra le virtù politiche le menzogne sono sempre state considerate dei necessari e legittimi strumenti non solo del mestiere del politico o del demagogo ma anche di quello dello statista quindi direi che questa sera è una serata dedicata all'analisi delle menzogne e in particolare di quello che oggi è successo rispetto a tutto quello che è successo nei giorni scorsi io mi sono segnata pochissimi punti che volevo condividere con voi allora il primo è questo è che oggi la novità della giornata riguarda l'entrata in campo dei player internazionali quindi con l'attenzione dei mercati e degli investitori puntata su queste nostre elezioni e quindi vedremo come questo sta influendo come ha influito oggi come influirà nei prossimi due o tre giorni il secondo punto che volevo porre alla vostra attenzione è che una spettacolarizzazione mediatica delle elezioni del Quirinale non si era mai vista prima come oggi con maratone televisive su quasi tutti i canali e questa spettacolarizzazione entra direi a gamba tesa nel processo elettivo ho notato che il popolo non ha voce i giornalisti e i loro esperti invece sì quindi vorrei sottolineare che c'è un'espropriazione totale della voce dei cittadini e che il legame su cui si fonda la democrazia rappresentativa ovvero un legame almeno comunicativo tra politici eletti e cittadini sembra essere in questa occasione totalmente disertato e ignorato e questo sarebbe dovuto valere a maggior ragione per il 5 Stelle per il Movimento 5 Stelle in cui gli eletti si chiamavano appunto portanoce si chiamavano terzo punto la narrazione giornalistica di oggi è stata una narrazione compatta pro draghi al Quirinale e devo dire che ho notato più volte un orientamento forzato da parte di numerosi giornalisti allineati all'ipotesi pro draghi quindi uno spettacolo direi pietoso in cui alcuni giornalisti quasi volevano convincere gli intervistati della bontà e dell'inevitabilità dell'elezione di Draghi al Quirinale non so se anche voi l'avete notata quarto punto ovviamente c'è un problema di presidenzialismo di fatto e di questo ne hanno parlato in tanti Ilvo Diamanti poi ho sentito prima con Massimo anche Canfora e forse anche altri è chiaro che siamo in un paese presidenzializzato in cui il ruolo di Draghi è troppo forte e però alla diciamo alla notazione di Ilvo Diamanti la risposta di Marcello Sorgi è stata questa citazione all'ombra di Draghi la politica si può rigenerare quindi una risposta che ha stravolto completamente la posizione cauta in funzione anti Draghi al Quirinale espressa poco prima da Ilvo Diamanti quindi un meccanismo quasi perverso in cui la comunicazione giornalistica deformava a tappeto le posizioni degli altri degli altri ospiti quinto punto chi dovrebbe gestire la crisi controllata a Palazzo Chigi e qui è intervenuto Francesco Clementi il quale ha suggerito che dovrebbe essere data in mano a Mattarella per evitare almeno formalmente il rischio evidente di un presidenzialismo di fatto anche formale ultimo punto che ho segnato qui sul mio sul mio foglio è questo mi chiedo se abbia ragione chi come per esempio Fratoianni ci segnala che dopo le elezioni la legislatura sarà comunque finita e che si entrerà in una campagna elettorale permanente ecco prima di passare la parola a Domenico De Masi che è la nostra stella polare come dico sempre io passerei la parola a Massimo che ci potrà spiegare bene quali sono le regole del gioco di stasera in modo da poter dare la parola a tutti e appunto Massimo a te la parola grazie Miriam allora questa sera diciamo bisognerà parlare in tanti ci sono alcune personalità che ringrazio per essere qui con noi questa sera a cui verrà dato un tempo maggiore rispetto a noi associati in modo da creare dibattito allora le personalità sono invitate a racchiudere il loro pensiero nell'ambito di dieci minuti negli ultimi trenta secondi di questi dieci minuti per aiutarvi a chiudere metteremo un timer e leggerete il tempo che passa le persone dopo che hanno parlato queste persone tre, quattro, cinque adesso vediamo quante si avvicineranno anche all'apertura della 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 linea e dopo ci sarà appunto un giro per alzata di mano da parte di tutti i partecipanti che avranno tre minuti a disposizione per esprimere un pensiero una riflessione propria o porre le domande alle persone che sono intervenute e vedremo di gestire nella risposta anche la risposta dovrà essere però breve in modo tale da poter avere uno scambio il più il più proficuo possibile e quindi anche nel caso delle risposte anche lì scatterà il timer a tre minuti cerchiamo di fare il tutto nel giro di un paio d'ore due rette due rette e mezza in compagnia e in e in tranquillità a questo punto direi che scattano i dieci minuti per il nostro la nostra stella polare Domenico De Masi a lei anzi a te Domenico vai smettete smettete la risposta comunque i punti che ha indicato Miriam sono secondo me quelli cruciali che credo ogni cittadino in questo momento si pone naturalmente partendo ognuno dal proprio angolo di visuale politico io ho avuto una giornata non da parlamentare quindi molto molto più tranquilla di tutti gli altri con la possibilità di riflettere e di saltare da un canale all'altro non assolutamente per sapere nulla di politico ma per capire della comunicazione per capire il sistema comunicativo perché mi pare che sia un giorno straordinario in cui un sociologo ha a disposizione quattro reti televisive che esibiscono il 100% di coloro che fanno la cultura in Italia e che quindi sono responsabili di tutti i difetti che loro invece furbescamente imputano non si capisce a chi ai politici di solito ma di cui invece secondo me sono i principali i principali colpevoli dunque stamattina ho partecipato a una trasmissione proprio mattutina che si chiama Agorà e in cui c'era anche il direttore del il direttore del Sole 24 ore che ho risentito tra l'altro mezz'ora fa sul TG1 e ha detto le stesse cose che ha detto stamattina che cosa ha detto ha detto che l'Italia sta andando benissimo che è veramente una cosa straordinaria questo ha detto nei primi due minuti poi stranamente ha cominciato a dire un sacco di problemi terribili che c'è il debito che eccetera eccetera e tanto che io ho fatto notare che mi pare che la seconda parte era l'opposto della prima la realtà è che è una bella cartina al tornasole cioè il capitale in Italia si inventa per capitale diciamo il Sole 24 ore la confindustria vuole assolutamente che Draghi sia in una delle due posizioni possibilmente alla presidenza del Consiglio lo vuole per continuare ad accumulare i soldi che sta accumulando perché in questo momento c'è un gruppo di imprenditori che sta accumulando soldi come non aveva mai fatto nella sua carriera praticamente i Bezos italiani che sono sicuramente un paio di centinaio stanno facendo in piccolo quello che sta facendo Bezos in grande io ho ricordato che lo spread sta aumentando enormemente è il doppio di quello che era all'epoca di Conte che i poveri sono aumentati di un milione che il debito come dice lo stesso direttore del sole 24 ore sta schizzando sempre di più non si capisce quindi che cosa le cose andrebbero meglio secondo secondo aspetto io come cittadino mi pongo due problemi di fronte alla nomina del nuovo capo di Stato se è una persona con cui la democrazia alla fine del settennato sarà aumentata o sarà diminuita e se è una persona per cui alla fine del suo settennato le disuguaglianze saranno aumentate o diminuite siccome queste due cose dipendono dall'essere o non essere neoliberista praticamente i nove candidati che erano sulla tabella questa mattina durante la trasmissione erano otto neoliberisti e un solo socialdemocratico e tra l'altro è il candidato di cui oggi non si è parlato assolutamente più e cioè Riccardi io ho cercato di far notare che i due veri poli erano da una parte Draghi e da una parte Riccardi cioè da una parte un campione sicuramente rispettabilissimo dal suo punto di vista del neoliberismo e un campione altrettanto rispettabile della socialdemocrazia che se fossimo diciamo in una situazione di mercato perfetto come dicono gli economisti in cui le informazioni sono equamente e ottimamente distribuite su tutti l'Italia dovrebbe sapere questo che i due veri antagonisti sono non Draghi e Berlusconi che vogliono precisamente lo stesso tipo di società ma Riccardi che naturalmente non farà assolutamente testo essendo ottimo però diciamo dalla parte dei poveri i quali cos'hanno chi è e invece dall'altra parte Draghi da parte dei ricchi che sanno benissimo invece chi sia Draghi l'altro aspetto è quello dei media come vi dicevo prima è veramente a mio avviso la parte peggiore del paese e da due anni è la parte peggiore del paese e da due anni viene tollerata una comunicazione a me stesso per esempio questa mattina nella prima mezz'ora sono intervenuto per due minuti e ho detto quello che ho detto finora qui per cui da quel momento in poi per un'ora e 45 minuti non mi è mai stato dato più la parola eppure eravamo in una trasmissione tenuta da una persona credo messa lì dal Movimento 5 Stelle tra l'altro quindi la comunicazione è in uno stato secondo me veramente disastroso per ignoranza per supponenza perché come avete visto i giornalisti sono diventati ormai persone che in una trasmissione fanno il giornalista cioè interroga in un'altra trasmissione invece partecipano al panel come esperto per cui ormai non hanno più bisogno neppure di esperti basta che girano da una trasmissione all'altra sono 18 persone e 18 persone fanno da sipario tra gli italiani e quello che succede sono il filtro permanente e se ci badate bene sono tutti uguali sono un una fotocopia di Bruno Vespa diciamo così nel senso che hanno tutti gli stessi timori gli stessi stereotipi gli stessi perfino ticche nervosi altra cosa quella dei player internazionali i player internazionali sono il Financial Times e l'Economist i due corrispondenti in Italia di questi due giornali sono amici intimi di Draghi quindi non fanno altro che passare le velline che ci dà Draghi quello che se noi vogliamo sapere veramente cosa vuole Draghi basta leggere gli interventi che poi sono stati tre in tutto del Financial Times ma che chiaramente sono stati indicati indicati da Draghi due ultime rapidissime cose una è che domani sera o massimo dopo domani sera avremo Draghi presidente della Repubblica e la cosa interessante è che sarà votato da tutti quindi sarà votato anche dai 5 Stelle sarà votato anche da Fratoianni sarà votato anche ovviamente da Letta cioè ancora una volta il neoliberismo fa fare dalla sinistra quello che dovrebbe fare lei da destra così come Berlusconi ha fatto togliere l'articolo 18 dal segretario del PD non non lo ha fatto lui in 20 anni di di dominio ma l'ha fatto fare al segretario del PD e così ancora una volta il neoliberismo internazionale farà votare Draghi cioè un campione neoliberista ripeto con tutto il rispetto essendo un campione però ovviamente in posizione completamente diversa io politicamente ed economicamente e ancora una volta la destra fa fare alla sinistra quello che la destra non si preoccupa di fare in prima persona anzi come avete visto ora è la sinistra che sta chiedendo Draghi e quindi alla fine Salvini e i berlusconiani e perfino la Meloni faranno finta di accontentare ancora una volta la sinistra per avere poi in cambio maggiori posti nel governo ultima cosa termino purtroppo la presenza dei 5 Stelle nel Parlamento non ha modificato assolutamente in nulla la dinamica di tutto questo l'unica l'unico piccolo l'unica piccola novità è stata la proposta di Riccardi che però poi è caduta completamente per cui è durata non lo spazio di un mattino ma lo spazio di una notte grazie professore una precisissima ricostruzione dei fatti avrò qualche domanda da farle anche su questo a questo punto a chi facciamo parlare professor Magdalena il professor Paolo Magdalena credo che sia già entrato collegato a 36 voti Magdalena dobbiamo fargli complimenti perché dopo Bianca viene no si è fatto fregare si è fatto fregare è dispenditata e basta però ho fatto proprio una cosa pessima un errore una gaff che resterà come una macchia nella sua meravigliosa carriera c'è il professore? sì ci sono ci sono sono molto lieto di aver avuto 36 voti che significa che il gruppo misto della camera cioè quelli che si sono ribellati ai loro partiti hanno apprezzato il mio lavoro indefesso a favore della Costituzione quindi ho una speranza condivido in pieno quello che ho sentito solo l'ultimo discorso di De Masi effettivamente il neoliberismo domina non abbiamo altra via di uscita forse che quella di sottometterci però io sono nato bellicoso e non mi faccio prendere senza essere uno di quelli captivi cioè quelli che si ribellano dopo essere stati imprigionati e ritengo che questa mossa del gruppo misto sia molto importante innanzitutto perché ha sbarrato la strada Berlusconi che voleva pescare nel gruppo misto il gruppo misto non ha non ha accettato e questo è già una gran cosa quindi un risultato molto positivo dal punto di vista politico con quel poco di forza che ho da solo sono sono riuscito in questo intento e ringrazio Dio che ha voluto usare uno strumento come me non sono altro che uno strumento nelle mani della provvidenza quindi non non do nessun valore alle cose fatte da me ora secondo me c'è anche la possibilità di di pensare come dissi l'altra volta a un allargamento delle persone che vogliono che vedono nella Costituzione la possibilità di di cominciare un vago tentativo di riscossa a questo riguardo io mi riferisco concretamente alla questione Casino Aurora ho scritto una specie di lettera di diffida ve l'ho mandata anzi ve l'ha portata ve l'ha mandata Petracca essa si fonda su tre mie sentenze fatte alla Corte Costituzionale quindi ha un fondamento nelle sentenze alla Corte Costituzionale secondo me è la via da seguire ma ovviamente io aspetto il vostro contributo spero che anche Montanari mi voglia aiutare in questo se non che benché sollecitato da voi fatemi perché mi chiama Marco il mio collaboratore chiedo scusa bene abbiamo ascoltato in diretta dei risultati interessanti eh sì sì dice che anche quindi secondo me dobbiamo essere ottimisti in questo perché io sono certo e credetemi ho studiato sempre durante la mia vita anche alla Corte Costituzionale ho studiato giorno e notte e gli altri colleghi che non studiavano come me mi hanno spesso contrastato fino al punto vabbè non posso dire le cose interne delle cose comunque ho fatto molta fatica anche alla Corte Costituzionale ritengo che uno studio non preconcetto che sia autonomo che sia fatto in coscienza che non si rassegni i risultati raggiunti che vada sempre più in fondo che non ritenga soprattutto che la tesi sostenuta sia assolutamente vera e che sia sempre pronta a tornare da capo se invece c'è qualcosa che non va è il metodo migliore questo è quello che mi ha insegnato il mio grande maestro professore di diritto romano non di diritto romano ho detto altre volte che proprio la conoscenza del diritto romano mi ha fatto vedere la Costituzione in modo diverso proprio ieri ho voluto vedere cosa dice la dottrina in materia di proprietà pubblica la dottrina non dice nulla nulla credo che agire anche sul piano universitario e far capire alla gente che l'articolo 42 della Costituzione dice la proprietà è pubblica e privata e non solo privata sia anche importante insomma quindi secondo me se siamo d'accordo io comincerei a fare un lavoro innanzitutto a livello accademico in fondo sono abilitato all'insegnamento universitario come libero docente quindi non mi possono non mi possono dire no ho le carte in regola e non dico quanta fatica mi è costata la libero docenza insomma lavorando eccetera e secondo me se conveniamo su certi punti che poi vorrei discutere ma io penso che noi non possiamo fare delle cose finali dobbiamo preparare come fece Cosentino con l'AP2 con il programma dobbiamo preparare un protocollo un programma da attuare una volta per volta io sto attuando quello che nella mia mente è il primo passo di questo programma il programma finale è ridare la soranità monetaria all'Italia ma so bene che questo momento non lo possiamo fare allora il mio primo obiettivo è quello di riportare nella proprietà pubblica del popolo italiano cioè a dire nel demanio costituzionale che è inalenabile inuso capibile inespropriabile tutti i beni che ci hanno espropriato che ci hanno tolto che ci hanno rubato il termine è rubato tutti i beni che sono stati rubati al popolo per darli a Berlusconi a Benetton a Colanino a tutta questa gente che io come dire delle quali ho proprio una disistima totale proprio gente che ha avuto il coraggio di rubare i propri concittadini per vivere nella più grande agiatezza mandando sull'astrico migliaia di persone facendo soffrire le persone e quindi chi è d'accordo con me deve sapere che io non ho peli sulla lingua che io vado avanti secondo coscienza e la coscienza è universale come dice Kant di due cose sono assolutamente certo del cielo stellato che è sopra di me della coscienza morale che è in me questo l'ho fatto capire anche alla Corte Costituzionale ci fu un Presidente il quale disse no quando si tratta di questioni etiche non c'è niente da fare Maddalena non lo smuovete questa è la posizione e comunque posso dirvi che sulla ricostruzione sulla riacquisizione dei beni facendo in modo di agire in tutti i modi possibili e anche sul piano giudiziario è una cosa possibile perché la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione dice che la Costituzione è legge fondamentale dello Stato quindi noi spiattelliamo sui post sulle comunicazioni questo fatto e se adesso ho l'appoggio spero che continui di questo gruppetto di persone che ha avuto la bontà di votarmi io credo che qualcosa riusciremo a fare ma io ci tengo soprattutto che ci sia una comunione di idee fra noi ora io credo che Miriam l'hai chiamato ancora Tommaso no perché so che gli ha iscritto anzi l'avvocato ha iscritto una lettera quindi non volevo so no perché Tommaso insieme a Settis è stato con me in una lunga fase della vita poi però ognuno ha preso la sua strada non so perché io però ho sempre telefonato a loro Settis mi ha sempre risposto anche se talvolta ho capito che aveva dei problemi suoi personali allora mi sono arreso ma Tommaso mi risponde a distanza di un mese per gli auguri si vede che bisogna far capire a Tommaso che abbiamo una carta da giocare adesso 36 voti il primo in classifica quando ci sono tutte le schede bianche io credo che sia un fatto che possa far colpo sulla gente poi diceva poco fa Iacoella che il mio nome è stato tambureggiato sui post oggi quindi si vede che questa azione serve purtroppo io sto facendo una cosa che nessun giurista ha fatto cioè sto interpretando a fondo la Costituzione nell'ottica del diritto del vero diritto insomma non di un diritto appiccicaticcio e credo che anche Conte non sia dei nostri perché Conte è un civilista e quindi i civilisti hanno come Costituzione il codice civile di Carlo Alberto insomma è difficile che Conte possa dividere le nostre posizioni quindi secondo me è molto importante che ci vediamo vi dico subito stasera anche perché sono un po' stanco non credo che possiamo fare molto tardi dico che i punti salienti per ottenere per cominciare a recuperare i nostri beni perché adesso ci fanno saltare qualsiasi cosa facciamo noi dipendiamo solo dal mercato generale alzano i tassi di interesse è finita per l'Italia noi dobbiamo rafforzare il nostro patrimonio pubblico dobbiamo rafforzarle ci sono due scudi che sono non sono mai stati scoperte che invece sono in Costituzione il demanio costituzionale che è ben diverso dal demanio tassativo del codice civile di Carlo Alberto e i limiti alla proprietà privata articolo 41 e 42 che il tutto si concentra in una nuova interpretazione costituzionalmente orientata del diritto di proprietà privata e quando noi riusciamo a portare i giudici molto d'accordo su questo è De Magistris De Magistris è molto d'accordo su questa interpretazione concludo l'attuale codice civile che ci priva di tutti i beni con le privatizzazioni con le delocalizzazioni con le svendite dice il proprietario gode e dispone della cosa in modo pieno ed esclusivo e noi applichiamo questo articolo fuori tempo e fuori costituzione questo articolo va letto in questi termini mi pare che l'ho detto già un'altra volta comunque lo ripeto il proprietario gode della cosa assicurandone la funzione sociale dispone della cosa in modo da non contrastare l'opinione pubblica la sicurezza la dignità la libertà umana questa è la grande rivoluzione il primo passo da fare come diceva quel cinese insomma ogni lunga marcia comincia con un piccolo passo io credo che questo è il primo piccolo passo che dobbiamo fare secondo me è opportuno che ognuno di noi studi questo aspetto per ora io comincerei anche a fare un altro un piccolo ma grande passo quello di mandare quella lettera di diffida al ministero a Franceschini perché anche lì secondo me possiamo sicuramente avere ragione non è possibile che sia posta sul mercato e quindi c'è l'obbligo in sostanza la mia diffida è in questo non solo c'è il diritto di opzione questa è una delle tante possibilità che abbiamo ma c'è anche il dovere dello Stato di portare nel pubblico quindi mi interessa non mi so lascio suonare per non far vedere di portare nel pubblico quello che è stato Paolo Paolo puoi anche rispondere noi intanto andiamo avanti con la conversazione e poi non c'è problema ma è bello sentire le telefonate in diretta però non rischio manco manco a spendere l'intervento di un amico mi pare riportare nel pubblico quello che ci è stato tolto fraudolentemente tenete ben in mente questo avverbio fraudolentemente dei nostri governanti fraudolentemente in senso giuridico insomma non in senso morale io parlo solo di diritto e non offendo nessuno poi per quanto riguarda il linguaggio da tenere con i politici i politici sono pubblici ufficiali e io ho l'eccepcio veritatis cioè se mi dovessero dire qualcosa Aldo Moro mi ha insegnato che c'è l'eccepcio veritatis cioè io dimostro ma tu hai fatto questo quindi che vai trovando sei un traditore della patria lo posso ben dire comunque non sono certo un tipo malleabile e ci tengo molto a portare avanti tutta la mia vita ho lottato per l'Italia per la mia nazione adesso ho 86 anni e mi basta poco tra poco ho finito però voglio finire in bellezza insomma lunga vita lunga vita professore allora la interrompiamo non perché non vogliamo starla no ho finito ho finito ma perché ci saranno poi un giro di domande e se ha la pazienza capisco che la giornata è stata lunga risponderà alle nostre domande grazie prof grazie prof a questo punto direi di dare i dieci minuti a Steni di Piazza che è stato lì è stato lì tutto il giorno credo non so adesso se era presente già dalle tre ma essendo senatore i senatori li hanno fatti votare per primo quindi dieci minuti per raccontarci la tua giornata Steni intanto buonasera a tutti buonasera professore piacere di conoscerla sono Steni di Piazza io sono uno piacere mio come si dice io mi inchino di fronte al Senato la Corte Costituzionale è la quinta carica dello Stato il Senato è la seconda quindi c'è una bella differenza esatto sono uno dei grandi elettori quest'anno questa volta rispetto alle altre volte è stato tutto contingentato per cui io sono entrato sono arrivato alle tre un quarto Lucio ti richiamo subito perché sono sono in conferenza ti richiamo subito ciao ciao scusatemi no che è successo non si sente più un attimo Steni sì ecco ecco mi avevi tolto la esatto adesso mi sentite sì dicevo sono arrivato alle tre un quarto però sono entrato in sala alle tre e trentacinque ho votato e sono uscito però sono rimasto per un po' a Montecitorio e quindi per così a parlare un po' con le persone capire quindi la giornata da questo punto di vista è stata abbastanza abbastanza attiva il fatto è che rispetto alle considerazioni che faceva che ha fatto il professore De Masi c'è tanto di vero anzi quasi tutto vero cioè noi viviamo un periodo storico sicuramente molto preoccupante e come io sento una fortissima pressione da parte di un certo mondo che possiamo definire appunto il mondo del sistema capitalistico e nel sistema capitalistico intendo mettere anche tutto ciò che ha a che vedere col sistema dei mass media quindi della televisione dei giornali che spingono tantissimo con tutti i mezzi e con tutti i modi perché poi alla fine si voti e si vada a votare draghi perché 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 dietro c'è sempre tutto un sistema che indubbiamente ci voglia portare sempre di più a portare avanti sempre una politica assolutamente neoliberista come sapete noi io sono 5 stelle professore come sapete noi abbiamo deciso oggi di non votare votare scheda bianca perché il nostro obiettivo essendo comunque parlamentari e quindi dovendo avere come obiettivo quello di portare di eleggere il capo dello Stato è quello essendo il partito di maggioranza relativa di cercare di trovare una releanza tale per cui poi comunque alla quarta votazione si riesce a raggiungere la maggioranza e quindi in un momento così difficile e noi abbiamo pensato Conte ha pensato di lanciare tra virgolette senza farlo bruciare in queste prime fasi il nome appunto di Andrea Riccardi perché questo perché il nostro compito e qua e chiedo anche il suo aiuto professore Maddalena in quanto appunto giurista il nostro compito appunto è quello fondamentalmente di eleggere il capo dello Stato cioè una figura che oltre a essere diciamo portatore di tutela nei confronti appunto dei cittadini rappresenta appunto lo Stato nelle sue funzioni e quindi ancora di più uno statista cioè una persona che interviene affinché lo Stato possa regolare tutto ciò che anche sia privato che pubblico e quindi in un sistema delicato come quello che stiamo vivendo in questo periodo in cui si parla tantissimo di libero mercato noi abbiamo bisogno di una persona di un Presidente della Repubblica che rappresenti lo Stato e che possa regolare appunto il mercato a tutela delle minoranze a tutela dei più deboli per evitare le discriminazioni e per favorire una maggiore giustizia sociale io dico che è la grande responsabilità che io come gli altri grandi lettori abbiamo al momento in cui andiamo a votare unica volta in cui non si fa ricorso possiamo dire direttamente ai cittadini perché la Costituzione italiana vuole che venga il Capo dello Stato venga eletto dal Parlamento per evitare che si crei un altro potere rispetto ai promosi tre poteri giudiziario legislativo ed esecutivo quindi una persona che stia al di sopra delle parti nomina il Presidente del Consiglio controlla le Camere sciogliendoli nei casi appunto previsti nei casi appunto che non si riescono a trovare maggioranze qualificate e che sia a Capo del Consiglio Superiore delle Magistratura una persona che più possibile sia appunto al di sopra delle parti secondo me deve essere anche una persona in questo momento europeista e deve essere anche ovviamente fortemente inclusiva è un momento difficile diciamo in maniera molto chiara come è difficile per tutto quello che stiamo vivendo abbiamo vissuto in questi ultimi 30 anni e abbiamo sappiamo che abbiamo avuto un finto dualismo cioè un partito di sinistra che in effetti spesso collaborava diciamo con l'era brusconiana l'abbiamo visto abbiamo visto anche come il partito di Renzi comunque di fatto ha portato avanti politiche liberali anzi neoliberiste trascurando tutta una serie di idee diciamo social e democratiche nonostante comunque era capo degli erevi del partito comunista e per questo motivo appunto è nato il Movimento 5 Stelle per questo motivo appunto questo Parlamento ha creato questa grande confusione che lo ritengo positiva non dimentichiamo che i suoi elettori il professore Maddalena comunque la stragrande maggioranza vengono appunto dal Movimento 5 Stelle quindi da questo movimento diciamo di protesta che è venuto fuori oggi noi dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo essere responsabili nei confronti delle future generazioni e quindi a mio avviso dobbiamo fare di tutto perché venga eletta una persona che sia realmente al di sopra delle parti ma aggiungo che sia appunto non innamorata tra virgolette della massimizzazione del profitto c'è il rischio Draghi io penso che appunto si stia lavorando obiettivamente si stia lavorando tanti stanno fondamentalmente i poteri forti stanno lavorando in tal senso una cosa peraltro molto strana perché si vuole anche far capire di fare leggere come Presidente della Repubblica Draghi garantendo la prosecuzione comunque del di un governo fino al al 2023 anche questo è una cosa strana e direi che è anche un'offesa alla Costituzione perché se il Presidente del Consiglio deve essere nominato dal Presidente della Repubblica è una delle funzioni del Presidente della Repubblica non si può decidere prima dell'elezione del Presidente della Repubblica quale debba essere il Presidente del Consiglio che deve nominare il futuro Presidente della della Repubblica ecco perché io credo che probabilmente forse una soluzione che può veramente comunque dare un senso di continuità e di speranza che si possa ritornare a mettere la politica centrale forse potrebbe essere quella di pregare Sergio Mattarella e di essere appunto rietto cosa molto difficile che Mattarella ha fatto capire in tutti i modi che appunto non ha non ha intenzione di essere eletto anche per rispetto nei confronti appunto del sistema democratico ecco è un momento particolare speriamo che in questi giorni si possa in qualche modo risolvere e si possa scegliere per il meglio è finito Stani? Sì adesso ok adesso dovremmo dare la parola all'ambasciatore Stefano Gatto prego per avere anche un punto di vista dall'estero non so adesso in questo momento dove si trovano o glielo chiediamo subito Stefano ci sei? sì sì sto appena messo il video non mi vedo ma comunque non è che sia particolarmente mi conosco abbastanza bene non ho bisogno di vedere io non mi vedo comunque faccio vai tranquillo vai tranquillo io no io no mi sento poco tranquillo da quel punto di vista però insomma va beh sentite ah ecco sono arrivato va bene buonasera a tutti naturalmente io ho una prospettiva un po' diversa nel senso che non sono per nulla un insider della della politica italiana né della né della società italiana vivo all'estero da da più di trent'anni quindi vi posso dare una prospettiva un po' diversa di come vedo le cose essenzialmente dall'ottica di Bruxelles un paio di commenti prima di entrare sulla questione Bruxelles che sicuramente sarà polemica perché potete immaginare che non sia esattamente a favore di certe visioni che che molti di voi avete una questione che mi mi ha stupito abbastanza seguendo la concitazione rispetto alla candidatura Berlusconi prima e l'elezione della Presidenza della Repubblica adesso e che evidentemente viviamo in un'era di spettacolo la politica è divenuta spettacolo in una misura tale che personalmente mi ha stupito un po' questa praticamente presenza totale di questo tema sui mezzi di comunicazione che stiamo seguendo la candidatura Berlusconi è caduta quindi non c'è modo di non vale la pena neanche parlarne più di tanto però mi ha stupito un po' nei giorni scorsi vedendola come italiano nel mondo italiano che lavora per l'Unione Europea mi ha stupito un po' vedere i nomi i nomi che sono stati fatti come potenziali candidati e il fatto che si presentasse un certo nome che è profondamente legato a una certa immagine dell'Italia nel mondo non necessariamente la migliore perché poi vabbè può darsi che può darsi che abbia una buona parte della popolazione italiana sia ancora favorevole a quel nome che se l'ha fatto fino a ieri però dobbiamo essere coscienti che quel nome nell'immagine internazionale dell'Italia è un nome pesante pesante in senso negativo è stato però possibile mantenerlo in vita questo nome per come è possibile il candidato alla presidenza per più di una settimana un mese insomma tanto che che poi uno dall'estero si chiede davvero ma scusa ma davvero è possibile ti chiedono ma davvero è possibile che Berlusconi possa essere Presidente della Repubblica voglio dire è una cosa particolarmente sorprendente comunque quel nome è caduto probabilmente io non ho la minima idea se si avvererà la profezia abbastanza facile fatta dai miei predecessori nell'uso della parola che sarà Draghi il prossimo Presidente non lo so io credo che siano possibili anche altri scenari comunque non ho delle informazioni tali da potermi fare pensare in altro modo però certo questa spettacolarizzazione con questa con i canali televisivi io ne vedo solo alcuni che tutti che sono praticamente full time sulla elezione del Presidente della Repubblica mi stupisce un po' mi conferma che in quest'idea della politica spettacolo a tutti i costi forse si perde qualcosa di essenziale sotto quindi si spettacolarizza perché sostanzialmente diventa un gioco un gioco di audience i canali fra di loro sono in competizione per fare audience e in realtà si gira sempre attorno a un rito sostanzialmente un'altra cosa che mi hanno fatto pensare questi giorni e sono tutti questi costanti richiami a due cose che sostanzialmente sono vere una che l'elezione del Presidente della Repubblica è una cosa è una questione importante ma onestamente io l'elezione del Presidente della Repubblica non seguite per la mia età 7-8 e io non ho mai avuto la sensazione che in passato si considerasse che l'elezione del Presidente della Repubblica fosse una cosa di secondaria importanza è sempre stato un tema estremamente complesso un tema che ha portato a moltissimi a psicodrammi negoziati trattative notturne 23 votazioni insomma non è che poi ultimamente abbiamo avuto anche dei Presidenti eletti molto rapidamente però sempre come risultato di processi di veto di caduta di altri candidati cioè non è che di improvviso l'elezione del Presidente della Repubblica diventi importante adesso però al tempo stesso lo è perché siamo in un periodo di profonda crisi istituzionale di perdita di fiducia dei cittadini nei confronti delle situazioni che vorrei ricordare non è solo italiano è un fenomeno che è assolutamente mondiale basti ricordare a cosa è successo solo un anno fa nell'elezione americana con un paese diviso in due non dico al punto di quasi di scoppiarsi una nuova guerra civile però insomma è una crisi molto seria quindi l'elezione quindi di una figura come Presidente della Repubblica in un momento nel quale si è persa molta fiducia nelle istituzioni un'elezione ha avuto luogo nel 2018 questa elezione doveva apparentemente portare a un cambio politico molto sostanziale che in realtà non è avvenuto anzi si è arrivati a una cosa molto diversa da quello che si era pensato qualche anno fa a un governo di quasi tutti e a un animismo che è difficile da interpretare a volte poi un'altra cosa la un'altra cosa che si è detta molto in questi giorni è il fatto che il Presidente della Repubblica debba essere una persona super parte che non debba rappresentare un'eredità di partito specifico il centro-destra il centro-sinistra si sono battuti su questa questione che è sostanzialmente ancora aperta non sappiamo se è un escammotage un gioco per preparare la volata poi a un candidato di consenso che sappiamo tutti chi è o se vuoi quel candidato di consenso invece cadrà non lo sappiamo però io vorrei solo fare questa riflessione il fatto che il Presidente della Repubblica debba essere una persona super parte non significa necessariamente che debba venire da chissà dove a me va benissimo la candidatura di Riccardi mi piaceva tantissimo però è vero che è una candidatura difficile da immaginare nel contesto attuale io avrei pure votato se fossi un grande elettore però il discorso è che non è tanto difficile immaginare che non si possa trovare facilmente un candidato che faccia un'animità o che faccia consenso o che perlomeno faccia il consenso del 60-70% dei grandi elettori per la semplice ragione che noi viviamo in una società profondamente divisa profondamente confittuale dove le tensioni sono immense e sono immense su questioni che ci toccano tutti i giorni come la questione del Green Pass dei vaccini e tutte queste cose qua quindi immaginare che in questo contesto ci possa essere d'improvviso un accordo meraviglioso su una persona che sia appunto né di destra né di sinistra né di centro e che sia un difensore della Costituzione il che va benissimo perché è questo che prevede la Costituzione mi sembra abbastanza utopico e se pensiamo alla situazione che abbiamo negli altri paesi europei o negli stessi Stati Uniti che ho evocato prima beh la profonda crisi della democrazia è ben presente ovunque non è un fenomeno solamente italiano e quindi questa elezione in questo senso non poteva fare eccezione vado adesso sulla questione di Bruxelles io naturalmente ho una visione lavorando per l'Unione Europea da 30 anni ho una visione un po' più mite della cosiddetta interferenza da Bruxelles i poteri forti prima cosa i poteri forti naturalmente non sono l'UE può considerarsi una parte dei poteri forti ma non è certo il potere forte per eccellenza i poteri forti per eccellenza sono quelli finanziari sono delle reti internazionali che vanno anche al di là di quella che è l'UE la struttura istituzionale dell'UE io posso parlare per la struttura istituzionale dell'UE non per meccanismi di influenza o di o di intervento del consenso che non conosco perché non vi partecipo io posso dire che dal punto di vista istituzionale come Unione Europea l'idea dell'Unione Europea come tale è rispettosa come istituzione è rispettosa delle scelte delle scelte democratiche fatte nei vari paesi e sicuramente non esiste una posizione specifica su che candidato che 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 persona debba presiedere la Repubblica Italiana l'UE è sempre attenta a non a non intervenire su queste questioni anche anche in questioni molto in occasioni molto conflittuali come fu per esempio la questione catalana rispetto alla Spagna la si è sempre cercato di tirarla dentro dicendo Bruxelles pensa a questo Bruxelles vuole questo ma in realtà Bruxelles non parla mai in quel senso quindi io direi che sulla questione dell'interferenza cosa che con cui io come ambasciatore dell'Unione Europea nel mondo mi sono scontrato anche in altri paesi dove quando prendi la parola e per esempio una posizione ti dicono che la parte politica che è più lontana dalle posizioni che tu difendi ti dice che stai interferendo l'altra invece dice che stai facendo benissimo la questione dell'interferenza è sempre molto delicata e sempre molto esagerata secondo me quindi cos'è che si vuole da Bruxelles io c'è chi dice molti l'hanno detto in chat o l'hanno detto in questi giorni si vuole assolutamente un presidente un presidente Draghi presidente adesso no presidente del consiglio così dura di più io non credo che si arrivi a questo punto di interferenza io credo che semplicemente quello che ho sempre notato a Bruxelles è che quello che si vuole è un'Italia un'istituzione delle istituzioni italiane che che siano in grado di definire chiaramente quello che quella che è la posizione del paese senza molti tentenamenti che siano in grado di portare avanti gli impegni nell'ambito dei trattati finisco subito in questo momento segnalo che c'è è avvenuta una profonda trasformazione dell'integrazione europea in questi due anni che in Italia non si è sottolineata abbastanza che l'Italia è comunque il primo beneficiario dei fondi del recovery fund di Gran Lunga il primo beneficiario e questo rimette in gioco certi equilibri e che quindi esiste un interesse a che visto che i trattati esistono sono per il momento vincolati poi naturalmente se verranno delle forze politiche che cambieranno queste regole questo si vedrà però per il momento l'Italia è membro attivo dell'Unione Europea e in questo senso è tenuta a rispettare certi 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 impegni presi non dico che siano per la vita non dico che siano permanenti però in questo momento è questa la realtà nella quale come paese siamo e di fatto nessun governo italiano l'ha mai messo in discussione quindi quello che si vuole è avere un Presidente della Repubblica che sia garante di questo che questo signore si chiami Mario Draghi onestamente non credo che l'Unione Europea arrivi fino a quel punto non ho mai sentito questo tipo di cose ma non è che partecipi neanche ai circoli più segreti e misteriosi io sono semplicemente un funzionario europeo che è stato ambasciatore dell'Unione Europea che segue queste cose conosce la mentalità di Bruxelles e come funzioniamo quindi chiudo qui perché il mio tempo è scaduto semplicemente dire che io credo che che sia naturalmente come detto prima importantissimo avere un Presidente della Repubblica che difenda la Costituzione che rappresenti l'Unità Nazionale secondo me è anche importante che visto che siamo ancora membri dell'Unione Europea che sia un Presidente che non che non si opponga a questa questione fondamentale della nostra appartenenza strategica all'Unione Europea quando poi questo cambierà ci saranno altri Presidenti della Repubblica altri Presidenti di governo sono sicuro che non lo vedremo mai in questo momento però in questo momento credo che sia logico non esigere ma aspettarsi un Presidente europeista che non sia necessariamente draghi non lo trovo un'anatema dire questo visto che la nostra collocazione strategica comunque è quella in questo momento grazie grazie a te Stefano sicuramente ci saranno delle domande che verranno rivolte anche a te a questo punto visto che le quattro personalità hanno parlato tutte e quattro farei un giro di domande da parte del pubblico in modo tale da poi porre qualche domanda qualche riflessione ai nostri autorevoli interlocutori se vuoi Anna Anna Fraioli a te la parola per tre minuti ecco vai buonasera complimenti al Professor Maddalena al Di Massio e agli auguri a tutti quanti io abito sono residente a San Tommaso a Roccasecca terra nativa dove è nato San Tommaso d'Aguino e ci tenevo tantissimo a fare la domanda sopra l'ambito della proprietà privata pubblica a Professor Maddalena visto che dai miei studi che mi sono cimentata sull'ambito della legge di Inglaro per il fine vita che il Berlusconi conclamò il fine vita di Inglaro con un decreto parlamentare approvato solo dai ministri e di cui il presidente napolitano non glielo firmò e quanto è incisivo l'ambito dell'articolo 42 sulla proprietà pubblica e privata visto che la Costituzione nasce sovra proprio dei beni materiali del territorio perché era proprietà feudale e gli usi civici hanno condizionato il sistema della sussidiarietà sulla divisione dei territori sull'ambito regionale questi usi civici come possono essere rimossi dalla anche dall'ambito della tutela perché come prima ha parlato pure l'onorevole che non mi ricordo il nome lui si occupa di persone portatori di handicap e tutto questo sistema l'uguaglianza l'articolo 1 il lavoro l'articolo 36 che ci rientra pure appieno sull'ambito della proprietà pubblica è privata perché lo stipendio a un cittadino non può essere pignorato se ha soprattutto delle situazioni serie mi fa molto piacere di questo incontro saluto di nuovo tutti quanti partecipanti e grazie grazie Anna se c'è il professore Maddalena ci sei eccoti Paolo se vuoi rispondere brevemente su questo argomento degli usci civici gli usci civici sono un relitto a mio avviso di quella che era la concezione romana della proprietà pubblica contrariamente a quanto si crede che la proprietà romana sia proprietà privata la proprietà romana fu fino al primo secolo avanti Cristo una proprietà pubblica e si ammetteva soltanto la cessione della possessio qualora si volesse concedere dei terreni specialmente nel caso dei veterani dopo le guerre italiche del quinto secolo avanti Cristo quello che tengo molto a precisare è che l'articolo 42 della Costituzione non è stato assolutamente oggetto di studio da parte dei nostri costituzionalisti e mi trovo solo ad aver studiato a fondo la proprietà pubblica e la proprietà privata perché i costituzionalisti si sono occupati di cose marginali di cose non hanno avuto la volontà e non capisco perché di affrontare il tema proprietario anche perché il concetto di proprietà privata è molto radicato nel pensiero italiano e quindi non si è voluto contrastare questo immaginario collettivo però l'intervento di chi ha posto la domanda pone in evidenza come già nel passato con gli unsi civici che ripeto sono un relitto della concessione romana certi territori venivano considerati proprietà collettiva dell'intero aggregato umano che risiedeva su quei territori e poiché erano difficili le comunicazioni nel Medioevo tutto il mondo era il villaggio insomma tutto si attuava nell'ambito quindi vennero fuori le regole di Cortina Tampezzo quindi le magnifiche regole gli usi civici sono nel meridione le comunanze emiliane nella regione Emilia Romagna comunque il concetto che una collettività possa essere usiamo la parola condomini fatta da condomini del territorio quindi da proprietari collettivi è un concetto romano è trasformatosi nel Medioevo in quello che genericamente si chiamano gli usi civici ma gli usi civici sono stati utilissimi perché hanno impedito l'urbanizzazione di vaste aree di verde ora è uscita fuori una legge 4-5 anni fa che ha riattivato gli usi civici si chiamano domini pubblici ora questi domini si sono risolti in una specie di diritto dei discendenti delle antiche famiglie risedenti in quelle zone i quali hanno diritto a riscuotere una certa somma dopo il raccolto di solito come è avvenuto per non per Cortina d'Ampezzo per un'altra regola magnifica non mi viene in mente il nome è una spa che si dà il potere di coltivare di tirare avanti un'azienda agricola e poi divide i beni fra più persone vedo che devo far far velocemente dico che in realtà quello che è importante è che il popolo italiano prenda modello gli usi civici per fare in modo che il bene territorio e i beni che esistono sul territorio siano innanzitutto proprietà pubblica del popolo dell'aggregato che si è stanziato su un territorio e che questo fine sociale in economia sia tenuto presente anche nei confronti della proprietà privata non so se sono riuscita a rispondere alla no era in pratica un pochettino anche legato al concetto del bene comune dove questo ma i beni comuni sono un concetto sballato quello della commissione rodotà in realtà il bene comune è la proprietà collettiva demaniale il bene comune è la proprietà pubblica che se ci andiamo a pensare che invece è una proprietà privata che se di un singolo è alienabile se di una pubblica amministrativa abbiamo sballato tutto insomma stiamo nell'ambito dello statuto Albertino non abbiamo capito niente dalla Costituzione invece secondo la Costituzione articolo la proprietà è pubblica è proprietà collettiva demaniale del popolo ed è il bene comune anche nell'immaginario collettivo è questo se era questo che voleva dire gliel'ho chiarito perfetto allora adesso abbiamo la prossima domanda Nicola Evoli Nicola sei pronto? vai tocca a te sono pronto non ho domande ho dei commenti sono ammessi? sì sì certo commenti sono una parte della nostra modalità di riflessione vai beh innanzitutto una buonasera a tutti io vi do una mia interpretazione da italo-americano anche se oggi sono in trasferta in Finlandia però insomma vi do un punto di vista un po' internazionale proprio come diciamo all'atere di quello che ha detto anche l'ambasciatore Gatto che stimo moltissimo ma io sono un fan di Paolo Maddalena e dico che Paolo Maddalena è un giovane perché ha 86 anni no no la freschezza sono il coraggio la conoscenza ecco queste cose sono importantissime e purtroppo ce ne sono sempre di meno nei giovani e devo dire che lei su questo è un giovane volevo fare un paio di osservazioni la prima quella che abbraccio poi io sono emotivo volevo inviare proprio al senatore Piazza perché volevo che Piazza rileggesse una nota di Luigi Einaudi Presidente della Repubblica che disse non le lotte o le discussioni devono impaurire ma la concordia ignava e l'unanimità dei consensi cosa significa questo significa che non possiamo fare i giochini di palazzo per trovare una persona super partes nessuno è super partes perché ognuno di noi parte da una propria posizione che può essere ideologica o accademica l'importante è che cessi l'azione di parte nel momento in cui venga eletto questa è la prima cosa e che è proprio il discorso che fece Pertini al suo insediamento poi io sono più legato alle elezioni dei presidenti emozionato diciamo così da le elezioni di un presidente rispetto a un presidente del consiglio io ho avuto l'onore di comandare la salva di batteria dal Gianicolo all'insediamento di Costiga quindi ho dei bei ricordi forse oggi abbasserei molto l'alzo degli obici però insomma questa è una nota di colore a parte per rispondere al professor Maddalena quando dice quando la partita è dura bisogna giocarla ecco io sono disposto anche a fare questo un'altra cosa importante attenzione perché sullo scenario internazionale è vero che giocano i poteri forti io ho messo nei miei commenti andatevele a leggere senza che ve li leggo io adesso nuovamente che cosa hanno riportato il New York Times e gli altri giornali autorevoli cioè perché si pensa a un Mario Draghi futuro presidente e due anni di presidenza Mattarella questo è quello che circola negli ambienti finanziari americani in America quello che conta in questo momento è la questione ucraina oggi per disposizione del presidente americano vengono richiamate negli Stati Uniti le famiglie dei diplomatici del personale di ambasciata a Kiev signori qui siamo alla vigilia di una crisi internazionale spettacolare poi l'Italia ha per sua costituzione la figura del presidente della Repubblica che è una figura importantissima è anche capo supremo delle forze armate è capo del consiglio superiore della magistratura è colui che incarica un presidente del consiglio di formare un governo stiamo parlando di Barzeccole quindi per favore non diciamo troviamo l'unanimità su una persona che sia rappresentativa dell'universo degli italiani tutte grandi emerite cazzate e poi una nota vorrei se mi permette il professor De Masi mandarle un po' una castigazione abbiamo avuto 30 secondi mi bastano abbiamo avuto il coraggio il coraggio di un magistrato di una figura istituzionale come quella di Paolo Maddalena e andiamo a dire che si è bruciato ma dobbiamo fargli un monumento e fare la coorte attorno a Maddalena non si ritiri Maddalena che io sono convintissimo che i consensi aumenteranno a basso chi sminuisce queste azioni coraggiose avanti grazie grazie sono convinto anche io grazie Nicola del tuo intervento ci sono domande oppure Maria Laura Maria Laura De Francesco perfetto vai Maria Laura è una domanda molto sciocca ma vorrei farla aspetta che non ci si sente più aspetta hai detto che facevi una domanda sciocca e tu mi hai cancellato no ho fatto casino io scusami Maria Laura ho sbagliato a premere il tasso vai vai ricomincia va bene allora la faccio all'onorevole Steni se posso così sono due velocissime nella probabile per me per me nefasta prospettiva che Draghi venga eletto vorrei il suo parere su quale secondo lei è il ruolo in cui potrebbe fare più danni oppure se io fossi invece pro Draghi qual è il ruolo dove potrebbe rendere di più tra presidente italiano o presidente del consiglio secondo lei e la seconda mi sono meravigliata quando lei ha detto che ha votato scheda bianca e ne era orgoglioso questa non l'ho capita avrei gradirei un chiarimento su questo grazie prego rispondo certo allora intanto rispondo prima alla seconda domanda quella della scheda bianca io ho detto ero orgoglioso che sono solo orgoglioso di votare scheda bianca forse per carità mi era sembrato che fosse giusto ma fare scheda bianca ho detto ho votato scheda bianca non mi ricordi ma non ho detto orgoglioso ho votato scheda bianca forse detto costretto tra virgoletto qualcosa di simile comunque no no per carità no no assolutamente non ho orgoglioso ho votato scheda bianca nella speranza che poi appunto possa contribuire questo poi a trovare assieme a ad altri una maggioranza che ci possa consentire di individuare il meglio ecco questo più o meno ma non orgoglioso questo non l'ho detto e poi magari insomma se c'è una registrazione possiamo vederlo è ok invece allora nel caso in cui Draghi dovesse essere eletto Presidente della Repubblica probabilmente tra virgolette visto che farebbe più danni la Presidente della Repubblica o la Presidente del Consiglio forse farebbe più danni la Presidente della Repubblica perché durerebbe sette anni comunque e quindi visto anche ciò che sto vivendo in quest'epoca anche nei confronti di un sistema internazionale che sembra sempre di più in questa fase orientato ancora di più verso una cultura di massimizzazione del profitto non vorrei che appunto si individuasse nel futuro Capo dello Stato qualcuno che comunque potesse sempre di più portare avanti politiche tra virgolette di ingiustizia sociale questo diciamo o quantomeno avallare politica di ingiustizia sociale e dall'altro lato invece rimanendo presidente del consiglio dovrebbe completare quell'opera che gli si era richiesta l'anno scorso quando si è fatto cadere il governo Conte 2 perché non si considerava adeguato a dover far fronte ai 209 miliardi che arrivavano dall'Unione Europea non capisco il perché a ieri in piena pandemia ieri l'anno scorso in piena pandemia terribile si è fatto cadere il Conte 2 appunto per cercare di di intervenire con un governo di unità nazionale quindi di grande maggioranza appunto per evitare i conflitti il più possibile trovare appunto delle soluzioni adeguate non si capisce perché oggi invece si può fare cadere il governo il governo in un momento difficilissimo in cui non sappiamo ancora come risolvere l'emergenza sanitaria poi una piccola altra cosa se me lo consentite non mi ricordo chi ne ha parlato poco anzi forsevoli non dimentichiamoci che abbiamo anche dal punto di vista internazionale una grossissima preoccupazione che dobbiamo comunque speriamo mai ma rischiamo di affrontare a breve che è quella dell'emergenza ucraina preoccupa tantissimo perché adesso come sapete è collegata anche un sistema di conflitto di poteri anche tipo economico tra la Russia e il mondo occidentale e verrebbe coinvolto anche tutto ciò che ha a che vedere con le risorse energetiche non a caso abbiamo un aumento del costo diciamo dell'energia e con un eventuale conflitto russo-ucraino non solo l'abbiamo dito casa ma rischeremo anche di avere ripercussioni di natura economica non irrilevanti quindi dobbiamo anche tener presente questo e quindi anche per questo cercare di individuare una persona che faccia la capo dello Stato il più possibile al di sopra delle parti e non collegato diciamo ai poteri forti grazie Steni Giuseppe e Andrea Miriam non sa alzare la mano la nostra presidente però mi aveva detto che voleva fare già da un paio di turni delle domande gli darei un attimo la presidenza soprattutto perché è una signora e nel caso di Giuseppe perché è la presidente ok prego Miriam no vabbè tra l'altro io vorrei fare tre domande separate per cui ne faccio una per volta va bene la prima domanda è per Domenico De Masi ok abbiamo detto che questa è la sera dell'analisi delle menzogne che abbiamo ascoltato in grande quantità oggi ognuno dai propri punti di vista e vabbè ce ne facciamo una ragione però tu hai detto prima una cosa importantissima che già hai visto sulla tua pelle che stamattina si è stato ampiamente censurato ora come pensi di combattere d'ora in poi la tua battaglia di intellettuale libero di libero pensatore se dovesse essere nominato Draghi eccetera eccetera e può rispondere sì e niente come ho fatto fin qui io cerco nei limiti del possibile di utilizzare i media perché siamo in una società post-industriale è impossibile non utilizzare i media per cui continuerò a scrivere sul giornale su cui scrivo che è il fatto quotidiano a rispondere a interviste quando me ne fanno e a scrivere i libri insomma a fare le cose che faccio a partecipare a decine di incontri perché per esempio gruppi come il vostro ci sono almeno sette ai quali in questo momento partecipo questo significa che alla fine uno in una settimana ha dedicato quasi cinque giorni a questo tipo di attività perché lo reputo paragonabile a qualsiasi attività politica e l'uso di internet lo trovo lo trovo prezioso sotto questo questo punto di vista io credo che il problema grosso sia pedagogico cioè che le persone non hanno anche persone colte colte nel loro mestiere cioè voglio dire un buon medico un buon avvocato un buon architetto non hanno però le nozioni minime per poter dire se una cosa è giusto o ingiusta è falso o è vera se è brutto o cattiva nel campo politico perché la cultura politica è a zero praticamente io ricordo quando ero giovane noi leggevamo un sacco di libri a seconda politici che so se uno era di sinistra leggeva che fare di Lenin leggeva Gramsci eccetera se era di destra leggeva Evola adesso proprio credo che questi libri non si vedano proprio più per cui diciamo i giudizi che sento più frequentemente è simpatico o non mi sta simpatico cioè uno dopo aver sentito un discorso politico che so di un capo di stato di un ministro eccetera dice no questo non mi sta simpatico o questo mi sta simpatico come se queste categorie fossero utili nella politica proprio assolutamente quindi secondo me l'attività pedagogica è fondamentale nella politica se oggi fossero chiare le categorie fondamentali dell'economia della politica sarebbe chiaro subito quale candidato su 20 candidati si direbbe subito sì no sì no sarebbe tutto facile volevo dire due cose una che secondo me Draghi sta facendo perfettamente il suo gioco e la destra sta facendo perfettamente il suo gioco perché il massimo vantaggio per la destra è se Draghi possa sommare quanti più poteri possibile più ne assomma più va bene per la destra se poi apportarlo in una posizione di potenza non è la destra ma è la sinistra e addirittura la destra deve far finta di diciamo di abboccare in modo da chiedere in cambio anche altri favori beh questo è un trionfo proprio meraviglioso l'ultima cosa che volevo dire anche per rispondere a un paio di chat è questo io credo di volere un gran bene al professore ci mancherebbe altro proprio perché gli voglio bene vi dico riparliamo nel lunedì prossimo e vediamo se la mossa è stata positiva o no se è stata positiva dal punto di vista di resa politica io sarò il primo a essere felice naturalmente guarda che io non ho fatto nessuna azione mi hanno votato loro certo io non conosco nessuno di quelli che mi hanno votato certo ma questo è un dato positivo io non centro no no è un dato negativo significa che votare per la Costituzione lo consideri un dato negativo la Costituzione è un dato negativo per il social la mia ipotesi no senti io sono dalla tua parte totalmente ti assicuro te lo sto dicendo come segno d'affetto non come segno io temo l'avevo capito l'avevo capito dall'inizio no io temo che chi ti ha alcuni di quelli che ti hanno votato oggi l'abbiano fatto per fare un dispetto al partito da quale provengono vabbè fatti loro eh no fatti i nostri fatti i tuoi non fatti loro no io non c'entro perché io non ho chiesto niente anzi vabbè perché dice di fare un dispetto e non è un atto di coerenza da parte loro invece aver votato il professor Vandalena adesso perciò ti ho detto nei prossimi giorni il problema è di capire se nelle prossime votazioni i 37 voti aumentano o diminuiscono o restano uguali solo sulla base di questo si può dare un giudizio su quello che è avvenuto sì ma semmai il punto interrogativo è è un altro cioè Conte all'inizio ha parlato di una donna no noi dovremmo votare sarebbe bene votare una donna era un modo per dire no non vogliamo votare Draghi va bene poi ha osteggiato giustamente Berlusconi poi Berlusconi ha portato un assist magnifico almeno all'apparenza dicendo no a Draghi e a Quirinale dopodiché adesso Berlusconi ha detto questo per un fatto semplicissimo Berlusconi ce l'ha fortemente due volte l'ho sentito parlare un po' più in privato ce l'ha fortemente con Draghi perché dice che lo ha portato in all'ABCE 15 giorni dopo essere arrivato all'ABCE l'ABCE gli ha mandato la lettera per la quale lui è stato disarcionato inoltre non gli ha dato nessun vantaggio in questo anno di presidenza per cui reputa Draghi un irriconoscente vabbè però di fatto è stato l'unico che ha potuto dire no Draghi al Quirinale a quel punto per fargli rispetto perfetto però adesso il Movimento 5 Stelle sembra invece ricaduto nell'imbuto peggio di prima certo quindi ma quello si sapeva fino all'inizio si sapeva fino all'inizio che 5 Stelle avrebbe votato Draghi ma la candidatura del professor Maddalena è una un baluardo ma che baluardo 37 cose che baluardo no è concettualmente un baluardo per un movimento che si sta apprestando a cadere in un imbuto e su cui la base non so quanto rimarrà ancora in silenzio guarda aspettiamo le altre votazioni e vediamo se è un baluardo o no io non so se dobbiamo aspettare io penso che se stasera siamo qua è anche per non stare con le mani in mano cioè forse invece ci saremmo stati anche se non ci fossero stati i 37 ma chiedo scusate Masi ma voi state parlando di una cosa che non mi interessa affatto nemmeno voi no no questo numero di persone che mi ha votato io non ho chiesto niente a nessuno mi voterà non mi voterà non mi interessa niente io continuo la mia battaglia per la Costituzione ma certo e noi saremo con te per la Costituzione ma non mi ponco il problema se ho più voti domani o di meno voti ma come hai profilato perfino di farne di farne delle candidature politiche hai detto tu come? hai detto tu che questo si può tradurre in no candidature mie no in un'azione del nostro movimento di intellettuali forse mi sono spiegato male sicuramente che poi può sfociare in un movimento politico del quale io non farei mai parte perché io sono stato a contatto con la politica io sono stato 15 anni al Ministero dell'Ambiente le leggi più importanti sono venute nel periodo in cui stavo al Ministero dell'Ambiente quando ero capo ufficio legislativo ma guarda noi abbiamo almeno io io ho una stima profondissima per te ti giuro adesso stavo considerando non il problema tuo stavo considerando il problema dei 37 voti che significano quei 37 voti questo stavo dicendo e implicitamente stavo dicendo non mi illudete che significa che sono stati dati per grande afflato verso i beni comuni probabilmente ci sono motivi che non hanno niente a che fare con i beni comuni non so se è chiaro sì però c'è la possibilità in questo caso se per caso ragione io il professore è stato usato sì ma il punto è un altro secondo me lasciamo da parte i 37 voti e quello che succederà ai 37 voti in questi due giorni di attesa in cui si stanno ricostruendo le fisionomie del prossimo consiglio dei ministri eccetera noi come cittadini cosa possiamo fare per imporre almeno per far sentire la voce dei cittadini secondo me non possiamo continuare a stare zitti soprattutto quelli del movimento 5 stelle passo la parola alla prossima domanda il prossimo in ordine di prenotazione è Giuseppe Giuseppe Cifinelli eccoci qua due domande veloci al professor De Masi uno se io fossi un bookmaker inglese e dovessi mettere una quota su Draghi presidente lei a quanto lo darebbe? uno questa è una domanda spiritosa nel senso che si dà quasi per certo all'elezione di Draghi quindi lo darebbe immagino a molto poco la seconda domanda invece è che durata lei stima da sociologo e quindi da conoscitore della materia di questo governo dopo un Draghi presidente perché è chiaro che questa elezione avrà un costo enorme in termini di rimpasto del governo nel quale come appunto lei accennava prima la destra uscirebbe oltremodo vincente da questo confronto nel senso che farebbe la parte di quelli che hanno ceduto hanno fatto un passo indietro con Berlusconi che si è ritirato eccetera eccetera hanno fatto il gioco delle tre carte praticamente come si dice qui a Napoli che durata stimata lei dà cioè è chiaro che noi dal momento in cui viene eletto Draghi presidente entriamo in campagna elettorale e sarà una campagna elettorale feroce forse la più feroce da dopo la Costituzione della Repubblica molto probabilmente perché c'è in gioco ancora un po' di soldini da spendere del PNRR quindi appetiti maggiori che termini che limiti temporali dà questo governo ipotizza la possibilità di andare a un voto anticipato per esempio a settembre grazie per rispondere dunque io ipotizzo che sarà votato Draghi solo quando i partiti avranno raggiunto l'accordo sulla prosecuzione del governo fino alla sua fine fisiologica nel momento in cui votano Draghi significa che c'è già un accordo preciso sul continuare fino in fondo altrimenti almeno la metà dei votanti dei 5 Stelle nel segreto del voto voterebbe contro e a Draghi non interessa avere il 51% a Draghi interessa avere una quantità di voti che sia almeno pari a quello che lo ha voluto presidente del consiglio un voto in meno rispetto a quello che ha avuto come presidente del consiglio sarebbe un fatto disonorevole per cui Draghi in questo momento deve in qualche modo assicurare che da presidente farà di tutto perché il prossimo governo duri fino in fondo questo credo io a chi giova eventualmente andare al voto secondo me la persona a cui giova di più in questo momento non è più Salvini fino all'avvento della Meloni prima in classifica diciamo così conveniva a Salvini ora non convenrebbe perché sarebbe sancito che la Meloni nella destra è leader rispetto a lui e qualsiasi presidente del consiglio della Repubblica sarebbe comunque costretto a dare l'incarico alla Meloni per un presidente della Repubblica come Draghi che ha dato come unico impegno all'Europa che grazie a lui mai e poi mai una forza anti-europeista sarebbe andata al potere in Italia questo sarebbe impossibile per cui conviene sia a Draghi sia a tutto il resto tranne che la Meloni conservare il 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 governo l'altra persona a cui converrebbe invece che si andasse ai voti secondo me sarebbe sarebbe conte perché perché intanto i 5 stelle sono calati fino al 15% 20 mesi 24 mesi fa e poi si sono fermati al 15% questo significa che è quasi impossibile avere più voti mentre è pericoloso perché si può calare ancora di più e quindi a questo punto Conte secondo me se si andasse al governo se si andasse alle elezioni avrebbe 3-4 vantaggi uno che comunque questo 15% lo porterebbe a casa secondo che si libererebbe di gran parte dei deputati e dei senatori che non ha scelto lui terzo che avrebbe una ottantina di senatori e deputati molto più gestibili e scelti da lui perfetto grazie è completa ed esauriente è la risposta adesso c'è Andrea che si si era prenotato anche da prima prego Andrea buonasera a tutti non so se mi vedete e mi sentite ho una domanda per il senatore di piazza vorrei sapere che cosa significa per il Movimento 5 Stelle Draghi Presidente della Repubblica rapido e incisivo grazie Andrea Steni ti ha messo nei guai adesso però con tre parole adesso sono le domande più brevi quelle sono pericolose perché le domande più lunghe uno cerca magari di rispondere a mezza domanda qua come si fa esatto ti ha messo in un brutto guaio prego considera come se l'avessi fatta pure io grazie ad Andrea grazie mille sì volevamo far tutti sta domanda vai Steni allora in questo momento per le ragioni che diceva all'inizio il professore Remasi quelle legate fondamentalmente alla persona al tipo di ideologia che porta avanti appunto il futuro capo dello Stato per noi sarebbe molto importante avere una 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 persona che sia molto legata a principi di giustizia sociale piuttosto di di cultura neoliberista non dimentichiamo peraltro che indipendentemente dal fatto che in questi ultimi 20-30 anni in quest'ultimo ventennio diciamo tutto il mondo occidentale e quell'italiano fondamentalmente appunto si è ha spostato l'asse completamente verso destra e di fatto appunto è scomparso un un partito un partito di sinistra e gli i presidenti della repubblica gli utili per tutti i presidenti della repubblica non dimentichiamo che prima di Mattarella ci sono Napolitano comunque erede figlio del partito comunista sono stati presidenti che obiettivamente avevano hanno e avevano dei principi molto forti nel campo appunto della giustizia sociale della della sussiderietà della solidarietà Mattarella è un cattolico democratico Mattarella viene da una da una fortissima cultura di sinistra democratica e quindi sa cosa so quali i principi di sussiderietà è stato molto sempre presente a intervenire a favore dei più deboli non dimentichiamo per esempio negli anni degli anni passati almeno quando io da quando io sono parlamentare quindi questi quattro anni ogni volta che il il governo in piena manovra di bilancio ha tolto qualcosa al mondo del terzo vettore lui è intervenuto abbastanza duramente per per riequilibrare e diciamo per evitare appunto che si portasse avanti questo tipo di giustizia oggi invece noi ci troviamo di fronte a fare una scelta ecco perché parlavamo di di Agrile Cardi ce ne saranno ce ne sono ce ne possono essere tantanti una donna per esempio che secondo me non sarà eletta ma che potrebbe avere potrebbe essere portata avanti da un mondo diciamo cosiddetto eccezionista la Rossi Bindi che comunque è una persona sicuramente che su questo non è neoliberista quindi sarebbe un problema per per il Movimento 5 Stelle è un grosso problema che ecco ne discuteremo al momento in cui verrà fuori il nome di di Draghi per vedere cosa dobbiamo fare cosa meglio fare per noi grazie 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 Steni Miriam avevi tre domande ma ne hai fatta una sola no in realtà la seconda era questa qui bollente sempre su Steni perché per noi è un punto interrogativo molto forte e non continuare così quale ripeti la domanda precisa stiamo 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 tutti osservando con molta attenzione le mosse di Conte quello che lui sta dicendo quello che lui nasconde dietro quello che non dice quindi stiamo facendo un grande lavoro esegetico diciamo però ho notato che poi oggi tutto è precipitato allora da una parte c'è Bettini che si è espresso in maniera diciamo molto netta contro Draghi dall'altra celletta che invece si è espresso al contrario per Draghi insomma c'è c'è una confusione pazzesca che cosa da che parte si si tratta è stato chiaro in questa fase Conte Conte ha detto nessun veto ma è bene che Draghi continui a fare il presidente del consiglio fino all'anno prossimo e il modo Conte parla così Conte non dice però non è il tipo che usa parole diciamo taglienti però lancia messaggi chiari lasciamo stare la forma il problema è la sostanza entro poche ore vi dovrà dare un'indicazione dovrete seguire tutti un'indicazione ora è possibile che tutta questa concorrenza di forze intorno a lui ma perché perché tu sei convinta perché che poi alla fine l'indicazione che darà che darà Conte sia quella di votare Draghi non lo sappiamo vediamo quello che mi sembra che tutto sta andando in quella direzione cioè è quello che stanno facendo i giornalisti in televisione i giornalisti i giornalisti la stampa sì ma la stampa la stampa lo fa perché la stampa non è libera la stampa è in mano diciamo ai grossi al potere scusami perché oggi non avete votato Paolo Maddalena anziché votare Scheda Bianca le ragioni che diceva il professore perché purtroppo la politica è fatta anche di queste cose se il professore De Masi io ripeto ho tantissima stima nei confronti del professore Maddalena ma se il nome di Maddalena fosse stato fatto in maniera diversa e non in conciopposizione rispetto al movimento dal quale provenivano coloro i quali che sono amici miei hanno fatto appunto il nome del professore Maddalena probabilmente per le persone diverse purtroppo la politica è anche l'arte del dialogo è l'arte della mediazione e questa è la politica si deve discutere ci si siede si ragiona si apre un tavolo e invece tante volte anche volontariamente le persone o le strategie vengono usate non come come strategie ma come tattiche e quindi è venuto fuori il nome di Maddalena paradossalmente come dire noi siamo bravi come voi cinque anni fa avete proposto Rodotà oggi non siete in grado di proporre Rodotà noi proporiamo una persona di grandissimo livello come cinque anni fa lo era Rodotà che è il professore Maddalena questo e quindi anche a Morissina perché purtroppo viviamo anche così e quindi loro l'alternativa c'è appunto si chiama l'alternativa c'è rispetto al movimento 5 stelle deve dimostrare che è meglio e che i voti che vanno via dal movimento 5 stelle devono andare all'alternativa c'è cioè sono strumentalizzazioni politiche mi ha proposto Riccardi scusami Conte 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 l'ha proposto a Salvini Salvini e poi ha parlato con Letta a Letta pure è piaciuto e anzi hanno detto non lo portiamo avanti come nome bandiera perché si sa che noi bandiera poi sono coloro che non vanno fino alla fine e quindi sappiamo che è uno da mettere in campo eventualmente vediamo quello che succede in queste ore grazie scusa se intervengo Massimo prego devo lasciare se c'è qualcuno che mi vuol chiedere qualcosa allora una domanda di Stefania spero che sia per lei Anna hai già parlato un attimo facciamo parlare gli altri prima poi ti riederò la parola più avanti Stefania buonasera a tutti veramente è una domanda non importa chi mi risponde io partivo da una considerazione che è stata fatta prima dall'ambasciatore Gatto sul fatto che questo momento è estremamente mediatico quindi stiamo occupando tutti i minuti in televisione in radio comunque qualsiasi mass media parlando solo di questo e è anche abbastanza soporifero nel senso che poi distogliamo lo sguardo viene distolto lo sguardo dai problemi che ci sono non parlo solo del problema con l'Ucraina le ultime morti sul lavoro del ragazzo diciottenne cioè sono tanti grandissimi problemi di cui se ne parla veramente molto a margine e poi tralasciamo il discorso della scuola dove le classi sì la scuola è aperta ma le aule sono deserte perché i ragazzi sono a casa contagiati e quello che mi stupisce molto e questo spero che qualcuno possa rispondere a nessuno è venuto di 5 Stelle è venuto in mente di ricordarsi che noi prima venivamo consultati come base su una rosa di nomi non dico tanto ma qui stiamo a poche ore diciamo dalla nomina del Presidente della Repubblica e al 30% che rappresentava una volta almeno in Parlamento siamo sempre intorno al 30% nessuno dei 5 Stelle ha ricordato a Conte che di solito venivamo consultati anche se pro forma perché ultimamente erano ratificazioni non erano votazioni quelle che ci sono state sottoposte ma mi sembra che questa cosa che sia stata dimenticata sia abbastanza grave tutto qua esatto posso dire qualcosa io si steni aspetta in merito aspetta aspetta un attimo steni il professor Maddalena il professor Maddalena ha chiesto ma io queste cose non le so sono fatti politici ma infatti se professore se ci vuole salutare perché è stanco tra l'altro posso dire una cosa che forse sarà bisogno e sarà un grande piacere rivedersi giovedì sera se siete tutti d'accordo quindi Paolo ci possiamo sperare per contare anche sulla tua presenza ovviamente d'accordo va bene per fare le prossime votazioni va bene va bene grazie Miriam grazie a tutti buonanotte professore piacere averla conosciuta grazie arrivederci a presto presto professore grazie sì allora in merito al discorso della consultazione allora io credo che proprio per quanto riguarda l'elezione del Presidente della Repubblica non si debba fare la consultazione con con i cittadini perché la Costituzione ha voluto appositamente che l'elezione del Presidente della Repubblica fosse un'elezione di tra virgolette grandi elettori perché perché appunto non è un'elezione non è come l'elezione che avviene che avviene in America o in Francia perché è una Repubblica la nostra rubrica parlamentare e quindi deve essere esclusivamente con una responsabilità piena da parte dei rappresentanti del Parlamento è chiaro che poi uno può anche consultarsi discutere ma attraverso assemblee attraverso assemblee con i cittadini ma non attraverso una votazione questo è quello che penso io e questo è quello che a poco a poco andiamo motonando non tutto può passare attraverso attraverso l'elezione e la votazione da parte appunto dei cittadini questo è l'unico caso forse perché che la Costituzione appunto prevede che non debba essere elezione diretta grazie Steni Luigi Luigi Ursino prego ecco mi sentite ora sì ok scusate ma è un impulso molto più istintivo che razionale il mio cioè senatore io ho molta pazienza nel restare ad ascoltarla però sono almeno due o tre anni che ingoio rospi se lei le do del lei perché le porto rispetto in altri momenti ti avrei dato del tu perché eravamo attivisti io non sono più attivista mi sono disattivato così si dice no allora da disattivato io dico anche caro senatore se non fosse stato per certi principi che non volevano essere anticostituzionali lei lì non ci sarebbe seduto non ci starebbe proprio il movimento era una novità perché portava un modo diverso di prespettare le cose senza voler modificare quelle che sono le regole costituzionali sacre aggiungo quindi sicuramente c'è un'elezione del Presidente della Repubblica rimessa alla libertà e al libero arbitrio all'assoluta libertà dell'elettorato di secondo livello e va benissimo però c'era una consultazione di base che serviva a sentire anche l'umore del popolo di chi c'era dietro che non voleva quindi andare a scavalcare il fatto che poi ogni deputato andava a votare noi poi eravamo anche quelli che dicevamo che c'era il vincolo del mandato e quindi sappiamo anche tutta quella vecchia storia quindi si andavano a scardinare una serie di principi con altri principi altrettanto validi io ritengo da un punto di vista etico morale ora io adesso sto assistendo in questi giorni in queste ore ad un mercanteggiamento e ad una ricerca di capire cosa c'è nella testa di Conte Conte può avere nella testa quello che vuole il problema è che Conte non sta rappresentando quelli che lo hanno eletto anzi quelli che non lo hanno neanche eletto perché manco è stato eletto non c'è in Parlamento quindi prego neanche iscritto neanche iscritto allora c'erano una serie di principi giusti sbagliati per i quali si era partiti eravamo i grillini eravamo il 3% gli amici di Beppe Grillo spernacchiati presi in giro buffoneggiati poi abbiamo portato avanti questo discorso è inutile che riepiloghiamo quasi 9-10 anni di storia perché poi alla fine è storia vuoi o non vuoi sarà la storia del populismo italiano ma comunque è storia questi principi portavano comunque ad un vento di ossigeno puro che era rappresentato da questa possibilità di dare la voce alla base e che la base si potesse far sentire o devesse essere consultata che poi fossero i meet up o che fossero qualunque altra forma territoriale nella quale si organizzava questa roba eccetera questo magma in forme di gente di tutti i tipi tutti mischiati eccetera eccetera però Santidio si ricominciava a parlare di politica partendo dalla base partendo dalla gente partendo dalle istanze partendo dai gazebbi che facevamo al vento all'aria al sole eccetera con un sacco di entusiasmo adesso io assisto ad una pantomima degna della no della prima repubblica di ancora prima in cui si riuniscono gli esponenti i capi dei partiti si riuniscono per decidere qual è il nominativo che può fare andare bene che può andare bene all'Italia o addirittura all'Europa ecco forse è meglio che suona il tempo mi fermo qui grazie scusatemi grazie Luigi spettacolare Luigi spettacolare mi raccomando giovedì ti vogliamo qui non prendere assolutamente impegni giovedì sera guarda giovedì mattina giovedì mattina per rispettare un obbligo di legge indegno che calpesta i principi basilari costituzionali io andrò al lab vaccinale di stazione termini per andare a farmi esplodere diciamo così idealmente perché mi dichiarerò di non prestare il consenso volontario ma di essere lì presente in quanto adempio ad un obbligo di legge diciamo così perché questo prescrive la norma del decreto legge numero 7 ok allora andrò a dire non mi potete chiedere di adempiere ad un obbligo di legge in quanto ultra 50enne ma di dare il mio consenso informato sarò pure informato molto probabilmente anche più di loro per quanta roba leggo e ho letto in questi due anni però il consenso non me lo potete storcere voglio vedere che succede sarò con voi senz'altro giovedì se non mi arrestano giovedì mattina il ragionamento è un poco bizantino no? può darsi professore può darsi però se da una parte io sono obbligato in forza del provvedimento di legge è giusto? no sì non ci va allora non ci vado in questo caso non adempio ad un obbligo di legge e starò sanzionabile con i famosi 100 euro che non è per i 100 euro se a me mi faranno risultare in una qualunque forma di verbalizzazione poi scusate se ho cambiato l'argomento ma però ho capito però siccome mi parlavate di giovedì io giovedì mattina vado a combattere un'altra delle mie piccole battaglie siccome sto con te anch'io ho più di 50 anni diciamo così ah va bene da questo punto di vista sì giovedì sera ti interrogerò per sapere come è andata se non ti vedo ti vengo a trovare a Regina Celi va bene? benissimo affare fatto mi raccomando eventualmente arance e tarocche perché io e tarocchi soli perché sono siciliano grazie benissimo sarei esaudito volevo invece fare io una domanda a questo punto scusatemi tanto perché veramente ce ne ho due di domande una per Steni e una per il mio amico Stefano Gatto quella per Steni è sicuramente quello che dice Luigi è un sentimento popolare cioè è un sentimento del popolo a 5 stelle quello di non essere stati interpellati e quello di non venire interpellati secondo me è un errore molto grave poniamo il caso poniamo il caso Dio non voglia che esca il nome di Draghi per un per una serie di motivi che non sto che non sto qui e non voglio neanche immaginare ok ci si rende conto che abbiamo dato già su questo nome e versato e versato circa il 50% del bacino elettorale quando abbiamo scelto di fare Draghi presidente del consiglio questa è la prima domanda seconda domanda invece per Stefano Gatto Stefano io sono con te che l'istituzione europea in quanto tale non ha diciamo problemi se il nome sia Tizio Caio Sempronio al loro interesse rispetto di alcune regole abbiamo visto anche che le regole in quest'ultimo anno in quest'ultimi due anni alcune regole sono molto cambiate io sono preoccupato sinceramente del fatto che quelle regole che c'erano prima vengano ripristinate che aria tira che dicono i falchi dopo questo dopo questa diciamo questo teatrino che gli italiani stanno mettendo in piedi oramai da un mesetto con Berlusconi mica Berlusconi le schede bianche i falchi che ci guardano all'interno dell'Europa che pensano che 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 reputazione cioè siamo scesi di un altro po' secondo te prego Steni allora sì io credo che se ecco qua cerco di farmi capire bene aiutatemi anche a a ispirmi bene se esce il nome di Draghi a mio avviso invece bisogna confrontarsi con con la base degli iscritti perché per le regioni che tu hai detto Massimo cioè comunque la scelta di Draghi già al governo quindi figuriamoci ora come pensare l'Europa che è stata una città sofferta e che ha e che ha creato tutta una serie di problematiche ma legate alla figura di Draghi perché Draghi è una figura comunque liberista che viene da una storia di finanza di finanza tradizionale che ha una sua storia e che comunque e quindi lontana diciamo e dalle dalle dai punti ideologici del Movimento 5 Stelle cosa diversa invece è appunto la fase di dibattito che siamo che noi dobbiamo fare di discussione che noi dobbiamo fare come parlamentari perché noi non possiamo ogni volta che viene fuori un nome confrontarci con la base questo voglio dire appunto per quanto riguarda solo questa fattispecie del Presidente della Repubblica nel caso in cui dovesse vedere fuori appunto il numero di Draghi io penso ma attenzione è una mia riflessione ma probabilmente la diremo e la diremo in tanti ovviamente sicuramente nell'assemblea di gruppo e chiedere e confrontarci con la base perché sarebbe una scelta molto appunto molto difficile e probabilmente in controtendenza rispetto alle linee che ci ha dato che ci hanno dato gli elettori al momento in cui siamo stati eletti fermo restando che stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile sotto pandemia tutto quello che vogliamo quindi poi saranno i nostri i nostri iscritti eventualmente se vogliono a darci appunto il mandato a dover dare un consenso questo è quello che penso io Massimo prendo io la seconda domanda guarda per quanto riguarda i falchi due cose il discorso schede bianche 20 votazioni o quelle che saranno necessarie non ha nessuna importanza perché queste sono questioni procedurali interne che possono far sorridere qualcuno comunque noi potremmo anche si sorride anche di altre cose si sorride anche dei britannici che si alzano e che gridano in Parlamento cioè sono cose un po' di macchietta invece il fatto che tu dicevi secondo me è stato più grave in termini di reputazione il fatto di far circolare il nome di Berlusconi cioè pensare che per tutto quello che è Berlusconi perché poi uno può anche credersi o fa prendere per buona la narrativa italiana del colpo di Stato del colpo internazionale contro Berlusconi quel che si vuole però che il nome Berlusconi sia sinonimo di persona poco seria è abbastanza è abbastanza consensuale in Europa cioè non è una persona reputata un grande statista come come i suoi fans dicono né una persona minimamente seria ed affidabile poi ognuno si vede come vuole allo specchio però insomma la fama sua non ha assolutamente fatto bene all'Italia in questi anni anzi quindi rivederlo di nuovo dopo tutte le sue disavventure giudiziarie rivederlo di nuovo come candidato possibile certamente è stato un colpo di credibilità importante per quanto riguarda invece il discorso più importante ancora della di cosa succederà sulla continuità del nuovo approccio alla politica economica del recovery fund in questo momento in Europa al di là della preoccupazione per l'Ukraine in Europa le due cose che importano davvero sono la superazione del superamento dell'emergenza covid e far ripartire le economie europee e che l'Unione Europea sia vista come un un fattore di 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 rafforzamento di aiuto di supporto a questa ripresa della crescita quindi passato il momento peggiore di anti-europeismo che è stato un paio di anni fa all'inizio dell'emergenza covid che ha preso l'Europa un po' la sprovvista ma bisogna anche considerare che la sanità non era parte delle sue competenze queste sono le grandi priorità in questo senso l'elezione della Presidenza della Repubblica Italiana fa parte di questo disegno generale e si vuole quindi dato che l'Italia tra l'altro è il primo beneficiario dei fondi di gran lunga tra l'altro si vuole quindi che ci sia un'affidabilità una credibilità nella spesa di questi fondi io non credo che sarà molto immediato un ritorno alle sirene ai parametri precedenti del rigorismo e dell'austerità io credo che l'austerità come l'abbiamo conosciuta negli anni precedenti sia definitivamente morta questo non toglie che ci siano nei paesi del nord e in Germania certe voci che parlano già di ritorno a rigore ma non dimentichiamo che i soldi del recovery fund sono stati appena esborsati quindi siamo di fronte a una prospettiva di molti anni di spese e di investimenti quindi diciamo che adesso sono gli stati i vari paesi che riceveranno i fondi in primo luogo l'Italia che dovranno dimostrare di usare questi fondi di saper usare questi fondi in maniera migliore di quanto non abbiano fatto in passato parlando chiaramente del caso italiano che non ha mai fatto un uso particolarmente brillante dei fondi europei in generale quindi non è per adesso il ritorno al rigore se questo dibattito ci sarà incomincia a esserci ma stiamo parlando comunque dei primi mesi di spesa i primi fondi sono stati erogati nel secondo semestre 2021 e stiamo parlando quindi di una prospettiva che almeno fino al 2027 non cambierà le prospettive finanziarie attuali vanno fino al 2027 non ci sarà ritorno del rigore non prima del 2027 e per noi da qua al 2027 c'è tanto da fare grazie grazie Stefano colgo l'occasione per ricordarti lo dico anche a tutti gli altri abbiamo avuto conferma che ci sarà un incontro il 24 di febbraio alle 18.30 con il professor Francesco Saraceno e il professor Mauro Gallegati proprio per parlare di Europa per parlare del libro che ha scritto Francesco Saraceno La riconquista dove anche il professor Saraceno individua lui dice nel libro perché abbiamo perso l'Europa e come possiamo riprendercela nelle prime pagine già si capisce che c'è un atteggiamento c'è un atteggiamento ottimista più o meno come lo hai tratteggiato come lo hai tratteggiato tu Stefano segna di 24 febbraio 18.30 compatibilmente con i tuoi impegni e grazie per la tua risposta Simonetta un attimo solo Massimo è completamente una risposta sto leggendo una nota d'agenzia in questo momento prego Quirinale Turco Turco vicepresidente di 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 Conte se discontinuità esecutivo consulteremo iscritti come se discontinuità esecutivo quindi quindi se ci dovesse essere un cambio diciamo nell'esecutivo quindi significa ovviamente nel caso in cui Draghi dovesse essere proposto per andare al Quirinale consulteremo iscritti ok è nota l'agenzia poi leggiamo meglio poi quando arriverà quindi voglio dire ecco diciamo ci siamo diciamo su questo grazie Steni grazie Simonetta prego ma ti sentiamo più Massimo dicevo a Simonetta di smutarsi e ad Anna di avere pazienza per far parlare tutti coloro che ancora non hanno parlato poi ci abbiamo comunque a concludere perché già sono le 11.10 prego Buonasera a tutti mi aggancio immediatamente per non porre altro tempo a quanto detto dal nostro Steni allora per quanto riguarda l'ultimo comunicato che c'è questa se c'è una discontinuità se ci sarà una discontinuità nell'esecutivo si farà di nuovo appello ad una base allora quello che avrei voluto dire tre secondi prima è poiché si sa da tempo che ci sarebbe stata un'elezione del Presidente della Repubblica forse il dibattito avrebbe dovuto essere fatto diciamo molto tempo prima per conoscere un orientamento della base quindi a maggior ragione quest'ultima comunicazione mi lascia perplessa perché probabilmente ad ultimo in questa formula quello che valeva un minuto prima cioè che non si è consultato perché la Presidenza della Repubblica fa parte di un tipo particolare di partecipazione che non è evidentemente del cittadino ma era comunque nelle istanze di cambiamento che noi 5 Stelle avremmo voluto porre in campo fino all'ultimo momento e che invece si stanno trasformando nel tempo quindi già c'era di dover dire c'era una necessità di dover dire che ci sarebbe stato tutto il tempo per consultare la base e ancora più mi perplime l'idea di dover fare una consultazione avere una consultazione in questa fase ad ultimo mi sa tanto di strana posizione che in questo momento forse va valutata in più viene in mente che laddove ci fosse effettivamente l'eventualità di una scelta finale che va che va ad incidere ovviamente pesantemente sulla nostra Repubblica Democratica e quindi torna in nome di Draghi alla Presidenza della Repubblica fa venire in mente che si sia messo in campo una formula di ricerca di impunità parlamentare poiché il nostro Presidente del Consiglio a tutt'oggi mi risulta non dovrebbe avere questa impunità parlamentare immunità scusate quindi volevo sentire il nostro amico Steni che ovviamente molto apprezziamo che cosa ne pensa grazie passo alla parola sì allora per quanto riguarda per quanto riguarda la consultazione con gli aletti con 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 gli iscritti con con gli attivisti è appunto nel caso in cui si dovesse mutare il quadro abbiamo visto del 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 governo quindi comunque e il quadro del governo muta ovviamente anche se va via Draghi quindi comunque le cose di fatto sono collegate e per e quindi è corretto che comunque si fa si 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 chieda la consultazione agli iscritti e per quanto riguarda il discorso dell'immunità il Presidente del Consiglio così come i Ministri e così come i Ministri non parlamentari hanno le stesse immunità dei parlamentari in quanto i componenti del governo quindi avrebbe l'immunità il Presidente della Repubblica invece per per Costituzione ha un'immunità particolare perché gli eventuali procedimenti solo per quanto riguarda il Presidente della Repubblica vengono sospesi e vengono ripresi alla fine del mandato del Presidente della Repubblica questo vale valeva per tutti e questo appunto avrebbe creato un particolare scandalo se fosse si fosse se fosse letto Berlusconi a Presidente della Repubblica quantomeno nei confronti dell'opinione pubblica internazionale va bene allora chi c'è adesso la domanda chi c'è Anna sì Anna vai Anna non ti sentiamo ancora mi sentite ora sì vai allora per Steni stavo leggendo adesso che c'è stato fatto l'elenco dei voti che hanno preso oggi i nomi che hanno fatto a parte le schede bianche la crisi di governo è stata creata a tavolino a me mi viene da pensare volutamente per arrivare a questo che è questo programma dell'elezione del Presidente della Repubblica all'interno del Parlamento visto che siete stati votati da una nuova forza che voleva questo fatidico cambiamento ma non cambiamento della Costituzione l'attuazione della Costituzione che c'è stata vietata a tutti perché con decreti con via dicendo sono state create delle strozzature a quella che è la democrazia a me mi viene da chiedere come cittadina e non da rappresentante attivista del Movimento Cinque Stelle perché per me sarebbe un tratimento venire meno al voto che ho dato il 2018 poi vedremo il 2023 come potrò elaborare il voto però io ad oggi chiedo la serietà dei parlamentari che sono stati votati il 2018 e eleggere un rappresentante della Repubblica italiana europea che porti alto il nome dell'Italia e che non si debba vergognare e attuare quello che è le leggi come sono state stabilite in Europa ma prima che fosse stata attuata la Costituzione perché dei decreti sono stati fatti prima i diritti umani sono stati fatti prima e quando effettivamente fra di voi c'è questa coalizione di portare effettivamente il valore della Repubblica Italiana alto non il Movimento 5 Stelle a me mi interessa la Repubblica oggi grazie e se c'è una donna e se questo nome di donna è Rosi Bigli ok io era fatta la donna a me quindi rispondo e infatti per questo io l'avevo detto anche prima che intanto Conte ha proposto Andrea ha proposto ha pensato Andrea Riccardi che è un profilo assolutamente adeguato a quello che dice Anna e poi proprio nel mio caso io ho detto che per esempio se si fosse parlato di donna io pensavo a Rosi Bigli l'avevo detto precedentemente quindi sono perfettamente d'accordo e e quindi sì ecco vediamo quello che succede in queste ore per fortuna giovedì ci sentiamo e quindi vediamo un pochettino che cosa cosa avviene in queste ore c'è grande dibattito io nel frattempo seguivo mentre parlavo con voi anche appunto da vari chat interne nostre c'è giustamente grande preoccupazione speriamo che ne siamo fuori allora io avrei un'ultima domanda che però non è una domanda proprio semplicissima ma è per Domenico perché abbiamo letto un bellissimo articolo di Domenico l'altro giorno quello che è uscito su Formica in cui tu facevi questa differenza tra il Salesiano Berlusconi e il Gesuita Draghi ora se sostituiamo al Salesiano il Riccardi della situazione che mi parli capire potrebbe essere il nome di Conte nelle prossime ore che cosa cosa dobbiamo capire se guardiamo la la prospettiva non dal punto di vista del neoliberismo ma dal punto di vista diciamo più strettamente religioso cioè è una guerra tra fronti interni dei Gesuiti come come ce la puoi spiegare bene tu questa cosa Domenico io credo che la Chiesa non è indifferente a quello che avviene in Italia certamente avranno dei think tank ben precisi e ben formati ben informati e ben attenti che seguono le vicende e ovviamente nella preferenza verso un candidato cattolico su questo non c'è il minimo dubbio e tutti e due vanno a messa sia Draghi che Berlusconi che tutti e tre tutte e quattro tutte e cinque credo che tutti quelli che vediamo lì vanno a messa e quindi non so se credono o non credono comunque hanno bisogno di far credere che credano e questo e questo è importante che cosa sappiamo di Riccardi ma di Riccardi sappiamo quasi tutto che ha creato la comunità di Sant'Egidio che ha una visione internazionale della comunità di Sant'Egidio con grandi rapporti anche che so i presidenti della Repubblica degli Stati Uniti quando vengono a Roma vanno a trovare Riccardi è veramente una specie di ONU che però si pone il problema della povertà nel mondo e della povertà in Italia quindi io credo che a prescindere da tante considerazioni che si possano fare comunque già il fatto che la sua vita l'ha dedicata a risolvere il problema della povertà anziché a fare in modo che i ricchi diventino più ricchi è una differenza non secondaria è proprio totale e questo è il motivo per cui non è venuto in mente a tutti e quando è venuto pure il nome non si è detto ah finalmente abbiamo trovato il nome io devo dire che quando ho sentito il nome di Riccardi sono rimasto proprio di stucco perché anche contro me stesso perché ma caspita effettivamente c'era un nome così e non l'avevamo pensato e mi è venuto in mente avremmo dovuto fare una riunione noi come gruppo perché ognuno di noi portasse dieci nomi anche per abituarci a scegliere le persone portasse ognuno di noi dieci nomi che secondo noi erano degni di fare il presidente della Repubblica e poi li avessimo qua analizzati uno per uno dibattendo in modo da arrivare a una specie di identikit del presidente ideale della Repubblica quello che dovrebbe fare secondo me la televisione pubblica ogni volta che c'è una cosa del genere creare sia pure tramite quiz si può fare in mille modi cioè costruire comunque l'identikit del presidente della Repubblica come fanno le aziende le aziende quando cercano che so un capo del marketing un direttore finanziario eccetera fanno l'identikit e poi tra tutti i concorrenti cercano di capire chi è che si identifica più di tutti a quell'identikit io credo che l'unica differenza che c'è tra tutti i nomi che abbiamo sentito è da una parte Riccardi e da una parte tutti gli altri io per esempio sono laico per cui mi sarebbe piaciuto un Riccardi laico per esempio in Italia c'è un Riccardi laico che si chiama Carlino Pedrini il fondatore di Slow Food è altrettanto noto in tutto il mondo quanto Riccardi forse anche di più perché Slow Food ha presidi solo in Africa ha più di 10.000 presidi ma è sicuro che ci sono su 60 milioni di italiani persone che corrispondono all'identikit che noi costruiremmo del Presidente della Repubblica e quindi secondo me questo è un esercizio importante che devono fare i cittadini ogni volta che c'è da scegliere una carica fare l'identikit ideale per vedere poi quale scostamento c'è tra quelli per esempio io credo che la Confindustria ce l'ha l'identikit e corrisponde perfettamente con Draghi basta leggere oggi due giornali il Sole 24 Ore e il Foglio il Foglio io lo considero una specie di bollettino clandestino dell'intelligenza più raffinata di destra diciamo così oggi tutto il giornale è dedicato a Draghi e si capisce benissimo che è il suo idolo la stessa cosa parliamoci chiaro vale per Corriere della Sera la stessa cosa vale per Repubblica la stessa cosa vale per la stampa cioè questi altri se lo fanno l'identikit non so se c'è noi dalla destra dobbiamo prendere tutto il metodo perché sono bravissimi e non cedono se non a qualcuno che coincida perfettamente al loro identikit poi il trionfo dei trionfi che addirittura fanno decidere a noi chi è quello che corrisponde meglio al loro identikit non al nostro perché noi non abbiamo neppure l'identikit meno che mai abbiamo tutto il resto io sono sicuro che tanti dei 5 Stelle di Riccardi hanno sentito parlare ieri la prima volta e perché si interessano poco dei poveri altrimenti saprebbero tutto di Sant'Egidio di Riccardi che cosa hanno fatto che cose si sono inventate finora e così di seguito questo secondo me la prossima volta dobbiamo farlo quando c'è da fare un'elezione di qualcuno uno o due mesi prima dobbiamo fare l'identikit e dobbiamo anche pubblicarlo secondo noi l'identikit è questo perché ripeto a mio avviso la gente ormai va per simpatia o antipatia come è fatto il nodo della cravatta come si esprime in un certo comunque il giudizio più acuto che si sente dire è l'identikit c'è una persona dunque chi è Nicola Evoli mi pare che dice che io sono particolarmente particolarmente bizantino mi dispiace proprio e gli chiedo scusa perché cerco sempre di essere il più semplice possibile una parola però si vede che d'altra parte ho fatto per 40 anni il professore di università quindi ho una malattia insomma professionale contagiosa quindi scusatemi per i bizantinismi allora se non ci sono altre domande magari per stasera possiamo chiudere qui io sono 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 molto preoccupata a questo punto qualora dovesse esserci questa questa richiesta agli iscritti di quale possa essere la domanda che ci verrà fatta e vorrei capire se questa volta dobbiamo e possiamo capirci bene sulla domanda perché guarda una cosa il problema il problema sicuramente è come è formulata la domanda ma se non è stata fatta formazione se non è stata fatta formazione politica qualunque domanda si fa la risposta è data in base alla simpatia non so se è chiaro non si è fatta educazione alla base per cui si si fanno le domande ma si risponde come al bar professore professore mi dispiace che sia andato via il professor Maddalena ma questa mattina io e Miriam nelle nostre chiacchiere del mattino abbiamo come dire sposato perfettamente quello che lei sta dicendo tant'è che proporremo tra poco la scuola di formazione del popolo sovrano perché ci rendiamo assolutamente conto che quello che lei ha detto è la pura e semplice verità 30 anni di berlusconismo 30 anni di berlusconismo hanno provocato questa catastrofe e nei libri di storia leggeremo questa storia che il berlusconismo verrà ricordato per questa catastrofe la scuola di formazione del popolo sovrano vedrà lei presidente e il professor Maddalena professore direttore generale e io e Miriam e io e Miriam lavoreremo gratis per voi ok io avevo due schiavi che lavorano gratis 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 ma venici di pensare insieme lavoreranno ragazzi insieme non volevo coinvolgervi già ora è così non volevo coinvolgervi poi Raffaella Raffaella sarebbe indispensabile come portavoce assolutamente è strepitosa è super schiava ma io come tutti Daniela Paolo Federico Marica Peppe insomma come tutti va bene va bene allora siamo dietro le quinte noi ci vediamo allora giovedì ci vediamo giovedì è stato tutto va bene ci vediamo giovedì la tumulazione è venuta no speriamo di no però ragazzi grazie veramente di tutto un abbraccio a tutti a tutti a tutti grazie a tutti aveva Grazie a tutti.